Un'esplosione si è verificata nella metropolitana di Londra, venerdì mattina intorno alle 8.20 ora locale, le 9,20 in Italia, sulla District Line, alla fermata di Parsons Grand, nella zona residenziale di Fulham, zona ovest della città. Panico tra i passeggeri. Testimoni parlano di persone con bruciature sul volto ed escoriazioni. La stazione è stata evacuata. Secondo la BBC la polizia sta trattando la vicenda come un atto terroristico. Squadre speciali sarebbero in azione per disattivare un secondo ordigno, mentre ci sono notizie di un sospetto in fuga, armato di coltello. Secondo le prime informazioni, nei vagoni posteriori del treno sarebbe esploso un ordigno rudimentale, contenuto in un secchio di plastica, riempiendo di fumo il vagone. Una foto circolata su Twitter poco dopo l'esplosione mostra un secchio bianco, con fili elettrici, in un sacco della Lidl, da cui fuori esce del fuoco. Un utente del social, Riggs, ha vittato, esplosione a Parsons Grand, su un treno della District Line. Una palla di fuoco è volata per la carrozza e siamo saltati fuori dalle porte aperte. Un altro testimone ha affermato di non aver sentito il rumore dell'esplosione, ma un forte sibilo, poi ho visto delle fiamme che invadevano la carrozza e venivano verso di me. Alcuni passeggeri sarebbero rimasti feriti della calca.Le autorità britanniche ancora non si sbilanciano sulla natura dell'esplosione. Facebook e Twitter sono stati inondati di messaggi di chi sostiene che si è trattato di un attacco terroristico, ma Scotland Yard dalle 8.51 ora locale ha diffuso un tve molto cauto. Siamo a conoscenza di quanto si scrive sul sociale media a proposito di Parsons Grand. Diffonderemo una nota appena possibile. Le nostre informazioni devono essere precise. Scegli la modalità di visione per visualizzare il video nel modo migliore. Ruota il telefono in posizione orizzontale. La stazione di Parsons Grand è chiusa e il servizio di metropolitana è sospeso tra Earls Court e Wimbledon, come riferito su Twitter da Transport for London. Sul posto sono arrivati gli esperti dell'antiterrorismo, oltre a numerosi mezzi di soccorso e vigili del fuoco, sei autopompe, due unità di salvataggio dei vigili del fuoco e circa 50 pompieri e specialisti, fa sapere la London Fire Brigade. Un elicottero sorvola la zona. Sono intervenuti anche i medici super specializzati di London Ambulance Heart, che fanno parte di un'unità specializzata nei soccorsi più complicati, come incidenti multipli e le situazioni di salvataggio complesse. Da inizio anno a oggi, la Gran Bretagna ha subito quattro attacchi terroristici in cui hanno perso la vita 36 persone. Scegli la modalità di visione per visualizzare il video nel modo migliore ruota il telefono in posizione orizzontale e indossa gli auricolari.